Musica Allora Natale alle porte quindi comincia diciamo la corsa per l'acquisto ai regali Tu hai già pensato ai regali di Natale? Si Sto riflettendo, sto guardando in qualche negozio Musica Sì guarda qui ce n'è uno Che è per il ragazzo? Per una ragazza Per una ragazza Cosa hai comprato? Lo vuoi proprio sapere? È un intimo Cosa qualcosa di sconcio? Baceresi mai un ragazzo sotto il vischio? Si Come questo Iscrivetevi al canale E questo magari lo facciamo dopo? Dopo Ok va bene Dimmi qual è il pacco più grosso che hai preso? Il pacco?